Ciao ragazzi siamo tornati in questo nuovo video Siamo tornati in questo nuovo video Che bella cosa Io non so Allora mettiamo un seme Che voi potete vedere Perché ci potete entrare quando volete Infatti 26x2826 Non ricordo però mi hanno inviato la richiesta di amicizia Perché questo è un nuovo mondo Vi dico C'era un po' lagato prima Che sta succedendo Comunque ora siamo Ho aggiornato minecraft in pratica Ora siamo sulla Nuova Sul nuovo aggiornamento Quello dove si stanno la netherite Però C'è un problema Siamo in hardcore Aspetta Non so se si è visto Però mi sono roteato Vabbè Cioè più o meno Speriamo che si è visto Vabbè Speriamo Speriamo Perché Incominciamo bene Allora Dei cavalli davanti a me Sono compagno Muori cavallo Muori cavallo Dammi la tua pelle Dammi la E' un po' brutto E' un po' brutto Io mi alzo Perché sennò non mi vedo Mamma mi spacco E' un po' brutto E' un po' brutto E' un po' brutto Io mi diverto Io mi diverto Da colpire i cavalli Sono una faccia Vibbia Non mi ha dato la pelle Perché a me Perché cosa ho fatto Di male Vabbè Oddio Che brutta cosa Che ho visto Allora Due Facciamo così Lo so Io non sono Tanto esperto Sul pc Anche se dovrei Riesperto Ho detto Una cosa Un po' stupida Però va bene Ok Sì No Stavo controlla Se voi vedete Che controllo Cioè Se guardo a destra Sì Non lo so Perché Voi vedete Il contrario Quindi se io guardo Di qua Voi vedete Che guardo a destra Se guardo Di qua Voi vedete Che guardo A sinistra Quindi a sinistra Ok Sì Quindi a sinistra Speriamo Comunque ho visto Che nell'altro video Io la davo Non so perché O era la mia condizione Perché io non la gavo Cioè Cosa incredibile Non mi Allora Facciamo così Tatatatatatatatam Vedo che È un po' noioso Mamma mia È un po' noioso Però Ho appena finito Di fare L'altro video Quindi Che voi andrete a vedere Oggi Che l'ho pubblicato Oggi Io sto parlando In Fresing Codice No Quindi Vabbè Avete capito Avete capito Avete capito Chi mi segue Ha capito Allora 28 giocatori Comunque Oh Siete già in 28 Però vi dovete iscrivervi Perché se vedete Ma non vi iscrivete Non è bello Perché siete già in 28 Su questo canale Cioè Io sull'altro canale Ho iniziato con 2 E poi è arrivato 5.000 Tipo Eh sì Eh capita Eh lo so Vedete Ma che cazzo Di questo Io vi dirò Eh lo so No Qua c'era un gioco Che mi ho fatto Però Un giorno In questo Magari Vi farò vedere Che c'è anche Giorgio Trattaci di Giorgio È un ghost E può lanciare Le palle Di Aspettate Le palle Di Vabbè Le palle Di fuoco Paratteristiche Vabbè Un top Fin dei conti Vabbè Poi lanciare le palle di fuoco E io Gli devo rimandare In prega Si vince Perché quando Io muoio No Tipo Io duro Poi muoio Quando si vi Quando muori Vedi quanto Puteggio hai fatto Poi La stessa cosa La fa lui Da puntotti di partita Nel suo video Infatti Nel mio video Non lo potete vedere Quindi dovete andare Sul suo canale E vederlo Amorciole di quercia Vabbè Dovete andare sul suo canale E vedere il video Dove io sono Di cosa Vabbè Sono un po' pazzo Un pochino Poi io panico Certe volte Perché io non capisco mai Come pubblicare video E quindi Panico Tanto Tanto Panico Però tranquilli Io panico Solo per panicare Trattasi di Qualcosa di incredibile Trattasi Sotto si sentono Una musichetta Tipo Un po' Bruttarella Però le metto io Infatti Quando Io vedo Che qua E guardo Anche per questo Infatti Fare un youtuber È molto Difficio Io ho sentito Un rumore Strano Tipo Continuiamo Va bene Va bene Ma non benissimo Va bene Allora Va bene Quante volte ho detto Va bene Abbastanza Ci piace Allora Intanto iniziamo Con Fare A fare Una casa Perché Se non facciamo Una casa Dopo questa cosa Divene un po' Drastica Cioè Non avere una casa Su minecraft Comunque Io Il mio scopo È Trovarle La stiglia Non so se lo farò Off camera Oppure Lo farò Con voi Perché Ci vuole molto tempo Per trovare la stiglia Non forse Quando la troverò Incomincerò a fare il video Sì La troverò Non vi posso dire Che la troverò Però Sennò Abbastanza Forte Su minecraft Mi considero Un pochino Forte Su minecraft Beh Non so Se è vero Però Perché Io trovo I diamanti Un po' Spesso Un po' Troppo Spesso Infatti Io Certe volte Li butto Nella lava Non è vero Non li butterai mai Nella lava I diamanti Però va bene Ti immagini? Vi immaginate? Perché se qualcuno È femmina Mi dice Oh ma che sei? Cioè Ci stanno I femmina E ti guardano Su Ti immagini Maschile Non so Se voi Mi state capendo Bene Però parlo con voi Io Perché sono solo No Nei prossimi video Se metterete abbastanza like Vi porterò anche gli amici Però Questo è chiedere troppo Forse Forse è chiedere troppo Vedete Forse è chiedere troppo Io vi dirò Eh forse sì Però È la vita La vita La vita Comunque Io non capisco Perché Qua faccio video Pure belli Non so Forse Cioè io faccio video Pure belli Ma voi non vi scrivete Vedete Ma non vi scrivete A me Cioè io ho bisogno Di descrizioni Se voi non vi scrivete È un problema È un grande problema Infatti Certamente io bianco Perché Cioè voi Non mi vedete Ma io Mamma mia Cioè Tutto gasato Comunque ho imparato Comunque seguitemi anche su Instagram Aia Se ci morivo così Scheleravo No sul serio Scheleravo 166 Vabbè Perché su Instagram Ho 355 Polluar Quindi È un buon numero Cioè Certo Ce ne hanno Tipo Il mio fratello Ce ne ha 700 Però Da Non fate Cioè Cioè 355 persone Che mi seguono È molto bello Cioè È meglio avere Un milione Come laio E un milione Non ce l'ho mai avuta Perché anche per l'età Cioè Chi mi seguirebbe No 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 Lungiamo questo ultimo alberello E credo che stia durando troppo Questo video Infatti fa un po' dovrò smettere Credo Non lo so Se no Speriamo di no Perché io li faccio un po' succulenti Video Però Magari Boh Magari Magari viene bello Cioè Non come l'altra volta Speriamo Ci facciamo 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 la graffiting table Idea Facciamo la graffiting table Facciamo un piccone Prendiamo della pietra E finiamo No Vi piace come idea? Graffiting table Crafting table Piccone Mai alla velocità Piccone Vai Si vola Si vola Chissà Dimentato Basta È finita È finita per me Si muoio subito Sono una M Cioè Perché sto Scavando Con Vabbè Dai ma no Cioè Sto sfida Se la posso Pesare io No dai Non è Ciotoli Cobblestone La cobblestone La cobblestone La cobblestone La cobblestone Ok Mi faccio E ma come faccio Vai 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 Non In casa In casa Si vola Si vola Fa un po' Genio Il mob Fa un po' Genio No Genio No 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 Fa un po' Finisce Il video Cavolo Sta salendo L'ansia Raga Vabbè Raga Penso Che per oggi È durato Vintanto Quindi Io vi dico Solamente Una parola Io Out